Celebrato in tutto il paese il 197esimo anniversario della fondazione dell'arma dei Carabinieri. Ogni struttura ha festeggiato l'evento con manifestazioni e cerimonie diverse che hanno visto la presenza delle massime autorità politiche, religiose e civili. La manifestazione è stata aperta all'ingresso dei gonfalon e dei comuni e delle province con le varie medaglie a valore civile e militare. Nel corso delle cerimonie sono state attribuite riconoscimenti ai militari dell'arma che si sono distinte per operazioni importanti durante l'anno. Tra i riconoscimenti attribuiti a Ravenna ci sono stati quelli per il salvataggio della signora rimasta intrappolata all'interno della propria vettura in un sottopassaggio allagato e il riconoscimento ai Carabinieri della stazione di Traversara che nel corso dell'anno hanno compiuto intensi e costanti rilevamenti con l'etilometro mettendo in atto una campagna articolata contro l'abuso di alcol alla guida. Le piccole stazioni dei Carabinieri raccolgono a livello nazionale il 70% delle denunce presentate a tutte le forze di polizia. Questo è uno dei dati emersi. Dal contrasto alla criminalità e alle forme di violenza dalla protezione del patrimonio artistico, culturale e ambientale sino alla tutela della salute e degli alimenti sono soltanto alcune delle attività che giornalmente compie l'arma. Alla comando provinciale di Ravenna la cerimonia è stata arricchita dall'esposizione di statuette in ceramica che riproducono le divise dei Carabinieri modificate e cambiate nel corso degli anni. Grazie. Grazie.